E' prevista per il prossimo mese di agosto la prima dello spettacolo dell'opera dei pupi e delle pupe antimafia dedicato a Lea Garofalo, vittima dell'andrangheta la cui storia ha colpito l'immaginario collettivo dal puparo Angelo Sicilia fino alla cantastorie Francesca Prestia. L'idea dello spettacolo su Lea Garofalo nasce dall'incontro di due artisti come il puparo parermitano, padre dei pupi antimafia, e la prima donna cantastorie calabrese, nonché autrice della ballata di Lea e di altri brani dedicate alle vittime di mafia. Lo spettacolo, scritto a quattro mani da Sicilia e Francesca Prestia, coniuga la grande tradizione dei pupi siciliani con l'arte dei cantastorie meridionali. Sicilia e Prestia, che parallelamente hanno già avviato un percorso di rinnovamento dei propri repertori con la nascita dell'opera dei pupi antimafia e delle ballate ispirate alla realtà odierna e da varie problematiche sociali e civili, hanno unito le loro arti per narrare, con gli strumenti del teatro di figura e del canto e kuntu, la drammatica storia di Lea Garofalo. Lo spettacolo vede in scena i due artisti affiancati sul palco dai pupi antimafia animati da marionettistica popolare siciliana di Palermo e recitati da Sicilia e Prestia. Le musiche che corredano la rappresentazione sono composte ed eseguite dal vivo, dalla stessa Prestia, con la sua voce e gli strumenti musicali che ormai tradizionalmente hanno fatto parte del corredo artistico.